Corsò a Honra, subbiscita con un dettaglio tan bebognita, una saca di moneda di plata, una valore di 25 florini, nel tempo è, con feccia di Papa subbinita. Cosa c'è un homenaje del gobierno di Antillas, nel tempo è, per ricordare a Honra e biscita di tal persona, di su terra. La Aruba, poi, nos ha spera di portare un honore, e sacchita il momento, non? Proximamente, un dia che è un importante, del barrio di Dakota, che è una brasa, il pueblo di Dakota, in una certa forma, literal, lo haggia su nome, come la venida di Juan Pablo II. Il nome di qui, il nome di qui non è che Honra, è persona, però il nome di qui non è che da Honra, il nostro pueblo è che da Honra, il nostro barrio è che da Honra, e il nome di qui non è che è il padre del popolo, il popolo che vive qui, il popolo che conosce, è persona che ha contribuito per il risultato della humanità, per la Juan Pablo II, per la cultura di amor, per la cultura di vita, per la cultura di paz, per sv Cyrusà per realizzare la nostra città moderna. Ecco, ora Il Papa Juan Pablo II che è qui, non è stato un nome, non è stato sicuro che il nome è qui e qui è qui. Lo continuo come un'inspirazione, lo inspira a il popolo di Aruba. E' un esempio di Juan Pablo II. E' un esempio di una persona che non conosce nel medio di comunicazione. Un romano di loro gente. Un romano che ha apprezzo per loro color, per loro razza, per loro idioma. E' un personaggio che ha apprezzo per loro, per loro, per loro, per loro. Un personaggio che ha apprezzo per ogni religione, che non ha apprezzato, nessun credo, nessun fe. Un personaggio che ha apprezzo per noi, aiuta per noi a recuperare il vero valore del romano e il vero valore del cristiano. Il Papa Juan Pablo II, per noi, per la O personsi capolino, di Beato, a noi, amici di Dio, Nostra Spera, che, non è stata invalidita, per loro, per loro, per loro, per loro. Per i loro, per loro, per il popolo di Dacota, per loro, per l'ultra, per loro, per loro, per loro, per loro. del Pueblo di Aruba, poi si nel 1990 la visita corso come Papa, ora nel 2012 è stata stabilizzata su mezza Aruba come Beato Papa Juan Pablo II, ho apprezzato, ho ho si a sa che vira possibile.